Io gioco sempre a distanza e non riesco qua. O faccio la pazzia. Che tipo? Questa. Che si fa di qui? Qui ce ne sono. Cecchino. Mi ho attaccata. Uno da sinistra. C'è un altro dietro. Ti chiama cecchinato. Vai, vieni, vieni, reanimami. Ci abbiamo dietro. Sono qua tutti. Bravo, rebe. Bravo, rebe, madonna, rebe, che numero. Donna, rebe, che cazzo di numero hai fatto. Non ci pensavo proprio. Vabbè, uno aveva metà vita, ma non pensavo che riuscissi a usciderli tutti e due. Eh sì, li hai tolto metà vita. Ci dividono in tre loro, eh? Eh, veniamo di qui al centro. Uno. Granata laser di merda. Facciamo l'exploder prima che mi uccida. No, Dio Cristo, che sfiga. Muoio, muoio, muoio. No, era one shot, figa, vaffanculo. Che crede qua arriva... sta pushando. Dai, Teo, fai la differenza. Bravo. Io non riesco a tenerlo quello con il cittadino di qua. Eh, vieni qui a sinistra o facciamo un altro giro. Prova ad andare da sotto. Uno da sotto sarebbe utile. Io vado, io vado, io vado. Uno qui a sinistra. No, ma non da lì sotto. Da dove ne da sotto? Rebbe da sotto e l'unica è qua. No, c'è la... c'è la porticina. Arriva, eh. Spallito. L'ho fatto da estra, dai, l'ho fatto da estra. Va bene. Qui c'è la porta. Qua. Quella porta lì. L'hai vista, Pippo? No, no. Eh, adesso vieni con me, vieni con me. Ah, no, vabbè, ci sono i pesanti. Scusa, scusa. Eh, ma qui apriamo la porta, mi sa. No, siamo troppo vicini, raga. Io ne ho preso uno al centro e qui al centro. Ma ammazzato, è qua che sta andando a rianimare il tipo. Miga, le evitate tutte e due. Ce l'aveva ancora, cazzo? Al suo non mi sa che non ce l'ha più. No, mi ha ammazzato. Teo, vieni. Che cazzo sei? Ma dove stai? E' là sopra? E' là tutt'altro qua. Eh, vabbè, ma eravamo in due contro uno. Buona. Eh, arriva anche l'altro. Bella. Ah, ti sei anche cambiato ancora la super. Oh, vieni. Ti ho fatto bene. Ah, va bene, va bene. Quando voglio ammazzare uno. Vieni qui. Questa porta qua. Eh, ma questa porta qua non mi porta a nessuna parte. E ti porta qui in mezzo? Rompi i coglioni, sono in fondo, con il cecchino soprattutto. Quindi non esporti. Aspettiamo, ragazzi. Vai fermo. Non so dove sarà, però... Sarà lì dove vai in B. Bel colpo, cazzo. Io ho preda. Ho anche la freccia. Uno quasi lo ammazza, eh. Che super. Mi sa che erano i fulmini della granata. No, dai, va a cagare, va. Che cazzo sto usando? No. Ho lì, teo. Ah, ma eravate tutte e due lì? Hai la super, tu? Siamo tutti morti, avrebbe. Eh, hai radianza, intendevo. No, avrebbe non ammazzato nessuno che radianza vuol che abbia. E che cazzo di soldi, ma... Andrà meglio la prossima volta. Eh, sì. Eh, conquistiamolo. Non facciamo un altro 4-4. Sono ancora là in fondo. Io resto qua. Se lui vuole entrare. E io ce l'ho la super firma. È sotto. No, teo, no. No, teo, no. Ah, è sopra sul tetto. Morto. Vieni, vieni a reanimare, vieni. Reanima subito Teo. Dietro di te, Rean. Preso. Su, che me cazzo. Alla fine non è stato male usarla, la pistoletta, però. No, no, bella azione. Ho fatto 1-10, tipo, di una roba del genere. C'è l'ultima con la super. Ah no, l'ho ammazzato io con la freccia. 1-6. Ma è buona, va bene. Yeee, yeee. Vediamo, al 300. Ma perché io sono il più sfigato dei 3, Seb? Te li trasporto a destra. Come cazzo? Merda. C'hai dietro, Teo? Guardiamo a terra. Anzi, ce l'abbiamo sotto. Vai, vai, vai. Lì, Teo, lì. Ti ha cecchinato uno. Vai, vieni, Reanimami. Vai, Teo, insegui, insegui. Ce n'era uno sotto che non capivo. Io li avevo prima infiammati tutti perché due tirano di qua e non ne ho ammazzato manco uno. Bene. Sì, infatti. Ma perché il teletrasporto ti... Ti disorienta, secondo me. Ah, l'hai bruciato tu. Vado io. Te si ho vinto. No, ma aspetta, ma io ho quello che aumenta... Porca puttana, da quando... Da mezz'ora sto usando quello che mi aumenta super la granata e non quello che rianima. Sarò scemo. Ditemi quando li ingaggiate, che li colpite, che io salgo da sotto. Eh, ce n'è uno là sotto, eh. O è lì sopra? Non capisco. No, è sopra, sì. È sopra di te. Vieni, vieni a questo. Sentite una super. Ah, no. Dal tetto? Dove è andato? Guarda cazzo! Ma è inculato! Arrivo. Ragazzi, correte! Ah, ma è vivo anche l'altro! Tutti sono vivi! Mamma mia, un colpo che... Beh, la Teo... Oggi Teo è in forma, eh. Io oggi faccio l'esca, ragazzi. Faccio l'esca io oggi. Eh, cazzo, io stavo sparando all'altro, pensavo che fosse l'ultimo, poi mi son distratto. No, 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 no. No, prendi, prendi sempre. Troppo lontano, là. Cioè, se hai il martello puoi anche rompere i coglioni, sinceramente. Perchè se arriva un martello con la massima difesa, figa quello deve rompere i coglioni, ma come non so cosa. Ok, son dietro la porta, allora. Non sono avanzati. Niente, cazzo, speravo che la mira di verità funzionasse. Cazzo, arrivano due, Teo. Ora avrebbe... C'è qua tipo... No, l'ho preso ma male. Ho sbagliato, ho sbagliato tasto. No, che cazzo. Ho sbagliato tasto, son due tasti. Eh, ho scherzato, stavo facendo... L'ho messo sulle mie gambe e mi è partita la radianza. Madonna. 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 La cagata del giorno, amici. Madonna, mia signore. Madonna. 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 Da dietro. Che cazzo sei? Eh, lo so che ce n'è uno sul tetto. Io ho presi due io sul tetto, tutti e due. Ficca, io ho un caricatore per ammazzarne uno. Eh, era quella... Piccione. Piccione alla risunzione. 300. Non mi ricordo dove l'ho presa, era l'avanguardia? Dove sono ragazzi, parlatemi. Sopra al centro. Martello. Martello, via. Morti, sono morti. Via, scappato, scappato. Bravo, Rebbe. Non lo prendo. Bravo, Rebbe. Sarpa di neri animati. Ci sono, ci sono. Sono tutte e due qui, eh. E lui è lì. Buono. 5. Perché stavo pensando attenti alla reanimazione quando sono due Hunter e... Sono stati eliminati. In due, ma uno no. No, in uno però... Stavo diventato. No, è che anche questa volta al 5-0 ci è capitato uno. Cioè così non dovremmo incontrarli tecnicamente. Per una volta la freccia ha funzionato bene. Per una volta. Addirittura. Eh, gli ha bloccato la super, gli ha...